E' la medicina di precisione uno degli obiettivi chiave del progetto MOMAR attuato in regione Lombardia e in alcune altre regioni italiane. Medicina di precisione che poi nella buona sostanza vuol dire dare il farmaco giusto al paziente giusto. Noi ne parliamo col professor Carlo Maurizio Montecucco, referente scientifico per il progetto MOMAR in Lombardia e ordinario di reumatologia all'Università degli Studi di Pavia. Ci parli del progetto MOMAR, di cosa si tratta e perché è stato realizzato? Quali sono i suoi obiettivi? Il progetto MOMAR parte da un'esigenza che viene dal basso e che riguarda la creazione di reti reumatologiche e che portino ad una condivisione dei meccanismi di gestione dei pazienti con artrite reumatoide. Sostanzialmente la creazione di un documento di consenso che faccia in modo che un paziente all'interno di una data realtà regionale e poi all'interno della realtà nazionale abbia un percorso di accertamento, di diagnosi e di cura che sia standardizzato e standardizzato ai livelli più attuali dell'evidenza clinica. È chiaro che ci sono delle differenze perché i sistemi sanitari regionali sono differenti fra di loro e quindi gran parte di questo percorso viene fatto regione per regione e anche i documenti di consenso sono differenti da regione a regione perché il contesto in cui ci si muove, il contesto normativo in cui ci si muove è differente. Uno dei messaggi chiave del progetto Momar è quello della personalizzazione della terapia. Perché è così importante? Questo è un aspetto direi tecnico e cioè che al di là del fatto organizzativo oggi c'è la possibilità e anzi la necessità direi etica del professionista, del reumatologo di individuare nelle diverse tipologie di pazienti orientamenti terapeutici differenziati. Questo è essenziale per uscire anche da una gabbia che si sta sempre più stringendo da parte delle amministrazioni della salute sul fatto di utilizzare sempre comunque il farmaco meno costoso. In realtà ci sono delle situazioni che implicano una scelta ben differenziata a seconda della tipologia del paziente, soprattutto legata alle caratteristiche della malattia ma più che altro alle comorbidità che i pazienti con artrite reumatoide possono avere. Voi avete identificato un certo numero di categorie di pazienti con artrite che possono necessitare di un trattamento personalizzato. Incominciamo dalle persone obese. Cosa fare in questi casi? Ma quello che si è visto è che i pazienti con obesità hanno una minore risposta ad alcuni trattamenti innanzitutto al metotrexate e poi ai farmacinati di TNF alfa. Questo significa che una gran parte di questi pazienti a quelli che sono i trattamenti di prima e di seconda linea abituali una gran parte di questi pazienti non rispondono e quindi tanto vale utilizzare il metotrexate, sì vale la pena di fare un tentativo con il metotrexate ma subito se non c'è una risposta adeguata e nella maggior parte dei casi non c'è, è quello di passare a farmaci che funzionano altrettanto bene nei soggetti obesi rispetto ai soggetti normo peso. Si deve tener conto anche che l'obesità è di per sé un fattore di aggravamento della trite reumatoide e anche di maggior rischio di sviluppare la trite reumatoide. Passiamo ai pazienti con indice ACPA elevato. Cosa si può fare per queste persone? Gli ACPA sono degli anticorpi che sono specifici per la trite reumatoide ma non tutti i pazienti hanno. I pazienti che hanno questi anticorpi hanno una maggior aggressività in termini di maggior possibilità di distruggere le articolazioni e maggiore possibilità anche di eventi avversi, di manifestazioni extra articolari, cardiovascolari di vario tipo, polmonari e discorrendo. Ci sono dei farmaci anche qui che sembrano funzionare meglio nei pazienti ACPA positivi e quindi tra questi per esempio la Batasept and Rituximab. Da questo punto di vista i soggetti che hanno titoli elevati di questi anticorpi potrebbero giovarsi maggiormente di questo tipo di farmaci. E nelle donne in età fertile come comportarsi? Le donne in età fertile oggi il vero farmaco che non deve essere utilizzato è il metotrexate. quindi va pianificato una gravidanza senza metotrexate. Sugli altri farmaci, sui farmaci biologici oggi si è molto più tranquilli rispetto ad un tempo per quanto riguarda la possibilità di arrivare alla gravidanza. In ogni caso oggi abbiamo dei farmaci che possono essere utilizzati tranquillamente prima della gravidanza e anche nei primi trimestri e nel secondo trimestre di gravidanza a seconda del tipo di farmaco. Però insomma c'è la possibilità di gestire la cosa molto bene oggi. Cosa fare per ridurre il rischio cardiovascolare? Sì, il rischio cardiovascolare è in parte, in grande parte, figlio dell'infiammazione. È un'infiammazione cronica come l'artite reumatoide e è chiaro che è pesata da un rischio cardiovascolare aumentato. Quello che noi stiamo vedendo e a cui stiamo assistendo è che di fatto il rischio cardiovascolare nei nostri pazienti con l'artite reumatoide attuali è sempre più basso perché li trattiamo correttamente, perché il trattamento corretto mette al riparo dal rischio cardiovascolare. E questo significa di essere però molto attenti e quindi fare in modo che la malattia sia effettivamente controllata e che il controllo non sia limitato a non aver dolore ma davvero allo spegnimento dell'infiammazione, perché se anche uno sta discretamente bene ma continua ad avere dei parametri di infiammazione molto alti, il rischio cardiovascolare c'è e diventa pesante. Insomma, in una parola non accontentarsi. No, non accontentarsi. L'artite reumatoide una volta era una malattia delle articolazioni che dava deformità e invalidità. Oggi questo aspetto è al 95% controllato. Quello che si deve controllare è tutto il resto, perché un'infiammazione cronica che si protrae per decenni nel nostro organismo fa danni e noi dobbiamo assolutamente evitare questo tipo di danni. Cosa fare per ridurre il problema delle infezioni? Le infezioni sono il tallone d'Achille di tutti i farmaci per l'artite reumatoide perché il farmaco attivo sul sistema immunitario deprime fatalmente anche le difese immunitarie. Tra i vari farmaci biologici e di nuova generazione, anche non biologici, ma di nuova generazione, che abbiamo a disposizione, il profilo di rischio infettivo è differente e ci sono farmaci che anche dalle linee guida della società americana di reumatologia, dell'American College of Reumatology, emergono come meno pesanti dal punto di vista del rischio infettivo. e quindi anche da questo punto di vista abbiamo la possibilità di dosare, di scegliere il farmaco più adatto. Il paziente però è sempre lo stesso? Il paziente è sempre lo stesso dal punto di vista del diritto che ha alla cura migliore e la cura migliore deve individuare invece la differenza tra i diversi pazienti perché oggi abbiamo evidenze che alcune situazioni modificano la scelta terapeutica perché ci sono farmaci che sono maggiormente indicati in un determinato tipo di paziente piuttosto che in un altro.